La Regione Toscana mette al bando già da quest'estate la plastica usa e getta dai 900 stabilimenti balneari in funzione lungo le coste. Anticipando una direttiva europea che dichiara fuori legge le stoviglie in plastica dal 2021, la Regione ha sottoscritto un accordo con Confesercenti, Confcommercio, CNA Toscana, Confindustria e il sindacato di base Donne di Mare. La situazione sta arrivando a un punto di non ritorno, cominciamo, ci sono degli studi che hanno evidenziato che addirittura la persona assume microplastiche dall'ambiente. Un traguardo al quale abbiamo lavorato molto lacrimente e che abbiamo raggiunto grazie alla sensibilità della Regione Toscana e quindi siamo molto soddisfatti di quello che è stato fatto. Noi da sempre ci occupiamo del corretto utilizzo dei materiali. Chi non rispetterà il divieto rischierà una multa e saranno i sindaci a definire le norme nel dettaglio. Rimarranno al momento solo le bottigliette in plastica. In Italia c'è solo un'azienda che le produce in materiale ecologico e un divieto avrebbe creato un monopolio. Addio immediato invece alle stoviglie monouso. Se voi pensate un attimo alle vostre uscite sulle spiagge, sono tutti quei bidoni pieni, zeppi di plastica e useggetta. C'è stata un'adesione entusiasta da parte dei balneari. Per il futuro ci proponiamo anche il recupero attraverso gli ecocompattatori. Ci stiamo lavorando anche delle bottiglie di plastica che invece le normative europee dicono devono essere recuperate.